Ciao a tutti, oggi effetteremo il nostro demo workout che consiste in svolgere uno o due tre esercizi all'interno del minuto. I secondi che rimangono prima dell'inizio del minuto successivo vengono considerati pausa, ma prima effetteremo il nostro riscaldamento costituito da 5 minuti dove dovremo svolgere 20 secondi di jumping jack, 10 affondi, 5 push up e 20 secondi in plank. Pronti? Grazie a tutti. 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 Al primo minuto effetteremo 25 scott. al secondo minuto. Al secondo minuto 20 push up. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.